Musica Buonasera con una nuova puntata di Screenshot, nuova puntata ma il tema è sempre quello se avete seguito la puntata di ieri e ci rifacciamo alla questione di confindustria divisa tra varie fusioni che ci possono essere, Pordenone con Trieste e Gorizia, Udine che rimane isolata in verità il discorso è molto più ampio, ieri lo abbiamo affrontato direttamente con un imprenditore, con Giovanni D'Apozzo oggi lo affrontiamo con un politico, ovvero con Ferruccio Saro, coordinatore del progetto FWG Buonasera Buonasera Allora, un commento prima di tutto a caldo insomma su questa divisione, su quello che è arrivato diciamo dalle parole di Agrusti Agrusti per conto mio, gliel'ho detto anche privatamente, ha commesso un errore a forzare questa divisione perché io credo che l'interesse degli industriali del FWG è costruire una confindustria unitaria che rappresenti il blocco degli interessi di questo importantissimo settore economico sia nei confronti delle istituzioni, regioni in primis, sia in confronti delle grandi relazioni industriali che devono tenere, essere tenute sia con il mondo sindacale da un lato sia con le aree con termini in Europa dall'altro purtroppo per una serie di difficoltà di dialogo, di incomprensioni siamo finiti in questa situazione però io credo che nelle prossime settimane si possa superare questa divisione e creare le condizioni per una soluzione unitaria della questione confindustria Lei insomma lo sentiamo ottimista, insomma a distanza di 48 ore da queste ultime parole che ci ha detto magari non so se è ottimista altrettanto nel pensare che c'è un problema di classe dirigente Ma c'è un problema obiettivo di classe dirigente ma che non è solo un problema di classe dirigente politica che c'è veramente perché il fatto che non esistano sostanzialmente più partiti non forma una classe dirigente all'altezza dei tantissimi e grandi problemi che oggi abbiamo di fronte ma c'è una crisi complessiva anche dei cosiddetti corpi intermedi tra cui Confindustria, tra cui il sindacato cioè tutte quelle istituzioni che un tempo rappresentavano gli interessi collettivi sono entrate in crisi c'è un grande processo di disgregazione in atto e questo processo di disgregazione in atto indebolisce la nostra regione e indebolisce in particolare Udine, l'ex provincia di Udine Infatti quello lì volevo arrivare, Udine la sente isolata in questo momento anche a livello politico? Qualcuno ha detto che si parla troppo di immigrati, rifiuti e via mercato vecchio Si parla poco del resto Certamente Udine, ma non è solo da adesso, ha perso il ruolo di centralità politica ed economica e di servizi all'interno della nostra regione non ha avuto più la capacità da tanti anni di essere punto di riferimento dell'intero Friuli di rappresentarne gli interessi nei vari settori e quindi la mancanza di un ruolo centrale di Udine, anche trainante rispetto agli interessi complessivi del Friuli e della regione fa sì che oggi siamo obiettivamente, questo territorio è molto molto indebolito Il suo giudizio, il suo Fontanini, a proposito di Udine, io mi ricordo sei mesi fa l'avevo invitata qua insomma non era stato abbastanza tenere nei confronti di Fontanini l'aveva giudicato come probabilmente l'ultimo sindaco prima di un commissariamento dell'ente perché porterà verso il commissariamento adesso no, no si era un po' spinto per Pungolaro No, io lo sanno tutti, non ero favorevolissimo a questa soluzione che poi è stata votata dagli elettori perché ritengo che sia una soluzione che porterà all'immobilismo e all'ulteriore declino della città di Udine anche il livello del dibattito che c'è in corso, solo immigrati, via mercato vecchio, rifiuti e la testimonianza del basso profilo del dibattito è che qui non stanno inventando niente di nuovo né progetti né idee che consentono il rilancio del ruolo della città Ma ne ha parlato anche con chi direttamente magari è più collegato a lei insomma parliamo di Michelini o Zanolla, comunque gente che è all'interno della giunta ne avete parlato per dare una scherzata Chiaramente ne parlo continuamente con gli amici chiaramente io lascio piena autonomia, è stata eletta dagli elettori questa coalizione ed è giusto che vada avanti, se riuscirà ad andare avanti fino alla fine Se riuscirà, lei ha qualche... Ma non lo so perché... Qualche previsione, è preveggente in alcune cose magari arriva la sensazione che non possa andare fino in fondo No, ma il problema è tutto questo balletto su undicesimi, dodicesimi assessori fa sì che oggi ci sono 5-6 che puntano a fare l'assessore Si è creato un clima di aspettative e di possibile anche instabilità che potrebbe creare problemi al futuro amministrativo di Udine Io invece mi augurerei che ci fosse la capacità, ma lo stato attuale non la vedo di rilanciare un dibattito sulla centralità del ruolo di Udine Qual è il grande sogno che deve cullare Udine? Perché Trieste ce l'ha, Portofranco, il Portovecchio, insomma ce l'hanno insomma come un sogno da portare avanti anche se facendo bene oltretutto Beh, è chiaro, Trieste sta avendo un rilancio fortissimo Per i tristini, anche se il sindaco attuale è molto bravo perché una serie di condizioni geopolitiche vanno sì che è tornato ad essere il punto di riferimento della Mitteleuropa, del vecchio impero austro-ungarico per cui lì arrivano interessi, tornano a diventare Trieste il porto dell'Ungheria poi c'è, diventerà il terminal della Via della Seta quindi la presenza cinese che non va demonizzata ma che può essere, sebbene negoziata, un fatto importante sul piano economico dall'altro lato hanno poi la possibilità adesso di utilizzare i punti franchi quindi un elemento attrattivo di nuove prese Udine invece in questione? Sostanzialmente non c'è più Udine, non è una città più di servizi perché per una serie di errori fatti in passato soprattutto nel settore terziario si è impedito in passato parlo di 20-30 anni fa quando si dovevano fare certe scelte è scomparsa tanto la luce, capita per il maltempo sono cose che succedono nel bello di una trasmissione noi proseguiamo intanto perché c'è il maltempo, non preoccupatevi sì, dicevo che Udine si trova in obiettiva difficoltà per errori fatti in passato aver favorito la Costituzione parla uno che era sindaco di Martignaco che durante la sua gestione ha fatto avviare il più grande centro commerciale che c'è in regione ha svuotato il ruolo commerciale di Udine ma è stato svuotato perché c'erano reazioni dei commercianti del centro che non volevano centri commerciali all'interno della città tutta una serie di politiche che avrebbero potuto mantenere un ruolo terziario sul piano si sono persi, faccio un esempio, i cinema che bene o male, a fine settimana portavano qualche migliaia di persone che andavano al cinema, poi nei ristoranti o nei bar e così, le osterie e quindi sono state fatte una serie di scelte che oggi è difficile colmare con nuove iniziative io credo che bisogna mettere a punto tutta la possibile creatività cercando di recuperare iniziative nel campo culturale nel campo del tempo libero, nel campo sociale e anche nuovi settori economici, nuove tecnologie basta avere tante idee e creare anche le condizioni ambientali perché le aziende tornino a investire su Udine però per fare questo bisogna avere visioni dinamiche e molto... non con l'immobilismo che lei pensa che ci sia in questo momento esattamente su alcuni temi io manderei in onda se possibile, grazie alla regia se il maltempo ci dà un po' di tregua visto che si sta battendo un po' su tutto il friuli speriamo senza danni un servizio che appunto ci rimanda al discorso di ieri l'intervista che abbiamo fatto un approfondimento con il Presidente della Camera di Commercio proprio di Udine, Pordenone, da Pozzo che leggendo anche alcune cartine che si era costruito fa vedere quanto c'è di disgregazione in tutto il friuli Venezia Giulia perché qui si parla di un problema complessivo insomma che sta affrontando la nostra regione prego la regia a mandare il servizio ci vuole a mio avviso anche una visione a livello regionale che sia una volta per tutte abbastanza chiara se noi vediamo la carta geografica nelle varie situazioni è un disastro cioè l'unica cosa che ha una logica è sono la carta geografica con le vecchie province dove tuttora questa carta geografica viene mantenuta per il riferimento delle prefetture e delle questure per me l'errore è stato nel creare un sistema completamente difforme dal resto del nostro paese con 18 UTI e quindi un ulteriore rimarcare di differenzialità dove all'interno delle UTI abbiamo poi comuni che hanno aderito e non aderito quindi con una moltiplicazione di contrasti se è vero, e questo lo dico agli abici politici che siamo una regione piccola beh, una coerenza ci vuole altrimenti, non so, penso il cittadino di Codroipo in un altro paese che deve andare per le cose dell'economia da una parte per le cose della giustizia dall'altra e quant'altro di certo un ridisegno istituzionale ricompattando anche all'interno dei territori quelle che sono funzioni primarie per il cittadino e per l'imprenditore penso che siano importantissime questo ricompattamento ci può essere attraverso magari le province visto che si vuole restituire questo ruolo che è scaduto ormai qualche anno fa? questo può essere stato un grande errore sopprimere solo nella nostra regione le quattro province perché le quattro province rappresentavano identità storiche culturali oltre che economiche sostituendole con 18 uti si è provocato proprio la disgregazione del territorio regionale perché le uti non dialogavano tra di loro e non erano in grado di sviluppare progetti complessivi chiaramente è mancato un coordinamento tra di loro e tutto questo ha accentuato i fenomeni di divisione che abbiamo oggi sotto gli occhi per cui bisogna ritornare a costruire queste aree vaste questo è l'obiettivo dell'attuale maggioranza regionale che ridia identità al Pordenonese all'area friulana della provincia di Udine e trovi le soluzioni equilibrate tra Trieste e Gorizia se non faremo questo i fenomeni campanilistici divisivi procederanno e avranno una ricaduta enorme soprattutto sul piano economico oltre che dei servizi ecco allora adesso andiamo in pubblicità perché tanto sta accadendo anche a livello nazionale ed è giusto sentire anche il parere da chi si è seduto anche come Ferozio Saro nei banchi del Senato Abbiamo parlato di disgregazione nella prima parte di screenshot in riferimento anche a quanto sta accadendo nel mondo imprenditoriale abbiamo parlato di Udine isolata ma volevamo sapere anche qualcosa a livello regionale e a livello nazionale prima parte un momento da livello regionale insieme a me, vi ricordo, Ferozio Saro coordinatore di progetto FWG che cosa deve fare la giunta da settembre in poi archiviato questo primo anno? Dopo questo primo anno di rodaggio i prossimi mesi saranno determinati per capire se questa legislatura avrà successo e se raggiungerà gli obiettivi che ci erano posti al momento delle elezioni io sono un po' preoccupato perché mi auguro che tutta una serie di temi in particolare l'attuazione della riforma sanitaria miglioramento dei servizi sanitari e socioassistenziali si riesca a realizzare non vorrei che la situazione rispetto alla scorsa legislatura magari peggiorasse mi auguro che si parla già di cominciare a parlare di debiti perché comunque sì, questo devo dire la verità una delle questioni fondamentali che ci eravamo posti all'inizio della legislatura era quella di controllare la spesa sanitaria invece qui ogni giorno emergono le nuove buchi io non so, adesso mi dicono che siamo di fronte ad un altro consistente buco nella sanità che potrebbe avvicinarsi ai 70 milioni di euro non ho dati certi, non me li hanno comunicati però so che c'è in questo periodo molta preoccupazione all'interno della struttura della direzione della sanità in questa nostra regione che messaggio lancia? sicuramente io lancio questo messaggio gli obiettivi che avevamo detto era quello di contenere la spesa sanitaria e riqualificarla migliorando il servizio sanitario mi sembra che questi obiettivi non si stiano in questo momento raggiungendo per cui io mi auguro che ci sia un diverso impegno e una diversa consapevolezza della difficile situazione in cui siamo caduti si dia corso anche come eravamo d'accordo ad una presenza maggiore del privato nella sanità per eliminare le liste d'attesa e dall'altro lato mi auguro anche che vengano fatte scelte adeguate da parte dell'amministrazione regionale sui nuovi direttori che dovranno essere scelti entro breve direttori sia dell'agenzia Punto Zero che delle aziende sanitarie perché quelli saranno fondamentali nei prossimi quattro anni per gestire e migliorare il servizio se dovessero essere fatte scelte non sufficientemente adeguate ho paura che il sistema sanitario regionale rischia di precipitare dai livelli di eccellenza in cui eravamo a livelli molto più bassi e quindi questo è l'appello che io faccio questa sera è bene parlare con franchezza perché altrimenti rischiamo di trovarci come la Seracchiani ha perso le elezioni per la sua riforma sanitaria di ritrovarci una reazione a livello popolare molto pesante perché non siamo riusciti a corrispondere alle aspettative che avevamo suscitato e sul punto nascita di Latisana che è rinato invece quello di Palmanova è stato affossato lei si è trovato d'accordo su questa scelta? era questo il problema alla fine? era un falso problema? allora io avrei preferito che ci fosse stata una visione complessiva della funzione degli ospedali dirette a livello regionale e non che si sia affrontato solo la questione Latisana e Palmanova si è deciso di affrontare questa per tutta una serie di emergenze oppure perché si era creato un aspro dibattito politico e chiaramente in sede di campagna elettorale noi avevamo preso l'impegno di riportare il punto nascita Latisana e così è stato fatto e io mi sono battuto perché poi ci siano delle compensazioni di funzioni nell'ospedale di Palmanova il problema è capire se questa scelta sarà giusta in particolare io sono obiettivamente preoccupato che il punto nascita di Latisana non raggiunga un numero sufficiente di parti tale da giustificare l'esistenza di questo punto nascita saremo in grado di dare una valutazione definitiva di questa scelta che abbiamo fatto unitariamente a livello di maggioranza regionale solo dopo una sperimentazione di uno o due anni poi potremo trarre le conclusioni e se ci sono stati degli errori o fate le scelte sbagliate bisogna riconoscerlo e cambiare senta parliamo un po' a livello nazionale mancano cinque minuti giusto perché un po' ci divertiamo ma anche non ci divertiamo a leggere determinate notizie che avvengono a livello appunto nazionale del governo di solito un periodo di cambiamento dovrebbe essere un periodo entusiasmante lei invece come lo vede in questo momento? di solito periodi come quelli che viviamo sono molto turbolenti sono figli di una crisi però la crisi tra l'altro viene dal greco vuol dire proprio cambiamento è di una crisi che non nasce oggi ma nasce con la caduta della prima repubblica con ciò che è successo successivamente il problema è che io non vedo una fase aprirsi una fase entusiasmante me lo auguro che questo possa succedere io sto vedendo invece che sta avvenendo una fase disaggregante nel paese e non so se nelle prossime ore ci sarà in via definitiva la crisi di governo se poi si antonerà le elezioni anticipate a ottobre oppure se ci sarà un governo di transizione però il vero problema è che con questa situazione che ci troviamo l'Italia è il paese che cresce meno in Europa è il paese meno dinamico che sta perdendo competitività non contiamo niente nello scacchiere europeo nello scacchiere mondiale e nemmeno più nel Mediterraneo che era il luogo dove noi avevamo una posizione quasi egemone quindi il paese è fortemente isolato indebolito e qui ci vuole anche una svolta di natura culturale mentale da parte dell'opinione pubblica non dobbiamo continuare solo a dare la responsabilità di quello che sta succedendo agli immigrati o l'Europa o questo o quest'altro però non bisogna dare la colpa di qua di là però sulla colpa di dare la colpa da una parte o dall'altra forse Salvini ci ha anche maturato il suo successo personale in questo momento quasi arrivando al 40% in questo momento Salvini gli conviene andare a elezioni anticipate ma sicuramente Salvini se fossi Salvini andrei a elezioni anticipate perché se non va a elezioni anticipate potrebbe trovarsi nel giro di pochi mesi visto che ormai i cicli della politica durano poco tempo Renzi insegna e Renzi insegna nessuno avrebbe mai detto che Renzi che aveva il 41% poi sia finito come finito perché gli italiani sono sempre alla ricerca del salvatore della patria che è quello che può risolvergli tutti i problemi poi si accorgono che è impossibile che un uomo solo al comando salvi la patria e reagiscono cercando un nuovo salvatore della patria questo è successo continuamente in questa fase io ciò che sostengo invece è che il paese si può rilanciare può riprendere solo Nello studio ormai succede un po' di tutto in questo momento ma capita ripeto con il maltempo questi sono gli effetti della crisi di governo che si riverbera nel nostro studio Salvini l'ha sentita ci ha mandato un fulmine ma al di là insomma di queste battute io sono convinto che il paese non uscirà dalla crisi se non riconosce prima le difficoltà in cui il popolo in cui siamo caduti che sono figlie di molte responsabilità ma anche in particolare collettive e in secondo luogo se tutti si rimboccheranno le maniche per quel po' che possono fare nelle proprie attività nelle proprie professioni nella propria vita sociale e cercheranno di dare un contributo o far uscire il paese dalla crisi se invece si continuerà solo a dare la causa agli altri il paese andrà gradualmente sempre più verso il declino e da paese importante diventeremo un paese marginale ecco che contributo può dare un'eventuale forza di centro perché oggi ne parlavano ho visto una pagina interessante anche sul gruppo espresso quindi sul sul messaggero magari la regia si può dare una mano le faccio vedere anche questo titolo dove c'è scritto la profezia di Renzi se si vota nascerà una forza di centro nascerà questo pollo dei moderati rinascerà secondo lei più che dei moderati io credo che sarebbe necessario che nascesse una forza equilibrata capace di governare anche radicale su molte scelte perché se si vuole ridare efficienza efficacia all'azione sia di governo che l'azione nei vari settori pubblici e privati ci vuole molta capacità di gestione dell'efficienza se ci saranno queste condizioni ciò di costruire una specie di partito che punti a salvare la patria dalla decadenza dal declino la disdegregazione credo che possa ottenere molti voti io da più parti mi tirano anche per la giacca mi chiedono infatti quando è che voi scendete in campo con un progetto italiano ma no ma c'è tutto un movimento tutti ne parlano di questa possibile costruzione di un nuovo soggetto politico il problema però è che deve nascere attraverso un fenomeno collettivo e anche avere la capacità poi di individuare una leadership che lo rappresenta molto forte anche molto capace di comunicare in questo momento non c'è non può essere Renzi no sicuramente non può essere Renzi Renzi ha avuto già un'occasione importante e l'ha buttata via quindi deve essere sicuramente qualche figura nuova che non ha avuto grandi responsabilità sul passato ma che si fa carico di un nuovo grande progetto di salvezza del paese però non di un progetto che dà sempre la causa di quello che non funziona agli altri ma monsì è un progetto che cerca di far partecipare tutti a un grande processo di salvezza e di miglioramento delle condizioni del paese va bene intanto che c'è la tempesta fuori io ringrazio Ferocio Saro per essere venuto un po' ritorno a casa vado appena per strada mi raccomando perché è qua a tempesta grazie e buonasera grazie ci vediamo con screenshot alla prossima settimana mercoledì arrivederci grazie a tutti